L'Ordine degli Ingegneri di Teramo scende in campo ufficialmente per mettere in guardia i cittadini su comportamenti poco deontologici e penalmente perseguibili riscontrati in questi giorni attribuibili ad alcuni professionisti. Sono stati infatti segnalati all'Ordine almeno 5 ingegneri che si sarebbero presentati nel Teramano come incaricati dal Comune o dalla Protezione Civile per eseguire sopralluoghi a seguito degli eventi sismici di agosto e di ottobre, in poche parole degli impostori. Un cittadino che ha dei danni a casa, quando si deve preoccupare nel momento in cui arriva un ingegnere e considerare un comportamento irregolare? Noi come Ordine siamo deputati a verificare e controllare, appunto tale con questa nota ci rivolgiamo alla società, quindi ai cittadini, ma è natale che possono chiedere all'Ordine attraverso un indirizzo mail dedicato via telefono e capire atteggiamenti eticamente poco corretti e soprattutto non rispettosi delle norme in materia. Del tipo chi si presenta lì garantendo prestazioni gratuite o to cure dall'inizio per poi rivendicarle successivamente non è un comportamento previsto dalla norma, soprattutto in contrasto con i decreti attuativi che stanno per essere approvati, perché l'ingegnere o il professionista in generale deve essere all'interno di una lista, di un elenco con delle capacità organizzative e professionali per poter dare risposte in tal senso, quindi va preso da quella lista. E quindi questo non è corretto, non deve essere accettato, oppure si presentano per conto della protezione civile per fare dei sopralluoghi, questo non è possibile. Oppure si presentano con una convenzione da firmare. Oppure si presentano con il foglio finale di una convenzione al momento che non esiste, perché è una vecchia convenzione, facendo assumere responsabilità al cittadino, invitiamo i cittadini a segnalare questi comportamenti. Oppure si presentano in accoppiata con l'impresa, non è che l'impresa ha la rogna, perché il rapporto progettuale-esecuzione è un fatto fondamentale di sinergia e di collaborazione per ottenere un ottimo lavoro finale, ma in questo momento l'attività professionale ha un ruolo, l'attività di esecuzione ha un altro ruolo, ma oltretutto è vietato per norma, perché il progettista o il direttore dei lavori non deve aver avuto rapporti con l'impresa esecutrice. L'Ordine degli Ingegneri di Teramo ricorda a tutti i cittadini che l'esecuzione di sopralluoghi è per regola preventivamente comunicata dagli organi competenti ed i tecnici incaricati devono avere il tesserino di riconoscimento.